Buongiorno, oggi ho visto la presentazione in FCA di TypeRora, TypeRora è per noi, per Romano Electronics, un partner indispensabile nel mondo del sistema integrato, in modo particolare nel mondo dell'automotive, oggi ho visto una presentazione che al di là del livello tecnologico che offre e della sfida tecnologica che offre la TypeRora al mercato, ho finalmente visto il concetto di tecnologia abbinato al concetto di bellezza, questo è un valore aggiunto che ho visto che devo dire mi ha emozionato e credo che abbia emozionato anche i top manager presenti oggi di FCA alla presentazione. Ecco, questo concetto se noi saremo bravi ad esprimere come italiani, ad esprimere questo valore, la combinazione dell'innovazione tecnologica ma sempre abbinato al concetto di bellezza che è uno dei grandi valori che noi italiani sappiamo esprimere nel mondo, io credo che sapremo vincere le grandi sfide che il mercato ci pone nei prossimi 5-10 anni.